per la gioia di tutti coloro che me l'avevano chiesto qui sul mio canale sul canale di sonobuta è presente adesso una playlist all'interno della quale troverete questa sorta di viaggio su queste 100 cose di one piece su queste 100 cose per cui teoricamente one piece meriterebbe di essere letto ma soprattutto queste 100 cose personali mie di sonobuta 100 cose che mi piacciono 100 cose che non so se piacciono anche a voi ma che sicuramente rappresentano dei momenti delle porzioni delle vedute delle cose che nel corso di questa cavalcata che dura da 22 anni mi sono piaciute tanto ed oggi vorrei parlarvi di un personaggio che ho letteralmente adorato sin da quando lei ciro sensei ce lo ha presentato ovvero katakuri quando noi pensiamo a tutti i grandi combattimenti di rufi pensiamo chiaramente a degli scontri che hanno a che fare con il grande main villain della saga se ripensiamo a tutta quella che è stata la storia di questo di nuovo lungo viaggio ci affiorano alla mente i grandi nemici i grandi villain nel senso pieno del termine quindi harlong crocodile enner lucci e via via proseguendo eppure con katakuri vicino sensei ci ha tenuto a fare ci ha tenuto a dare una sorta di visione totalmente differente io mi sono sempre messo nei panni del povero katakuri che tiene sulle sue spalle fondamentalmente l'intera famiglia certo lui è il figlio di big mam è il figlio di uno dei pirati più potenti dell'universo ideato da ichiro oda ma è colui che realmente tiene sulle spalle tutto quello che è l'equilibrio di questa innumerevole famiglia e io nel leggere hulk e kylan quindi nel leggere la storia di un manipolo di persone che cercano di riprendersi un proprio compagno in questo caso sanji irrompendo nel momento di una celebrazione ovvero lo sposalizio della figlia di big mam nonostante chiaramente big mam e i suoi sodali oltre che i familiari di sanji erano d'accordo erano d'accordo nello sposalizio soprattutto poi nonostante la famiglia di big mam fosse d'accordo nell'uccidere lo sposo eppure irrompe in questa cerimonia distrugge la torta distrugge lo chateau e fondamentalmente rovina quello che è il matrimonio con tutto quello che ne consegue voi che cosa avreste fatto se fosse se tutti voi fosse state katakuri chiaramente avreste agito come lui vi sareste messi al servizio della famiglia che avete giurato di proteggere e avreste provato a tagliare le gambe e non solo al nemico che vi ha invaso casa e tenendo conto anche di quello che è poi stato il combattimento tra rufi e katakuri che a mio modo di vedere uno dei più belli è uno dei più intensi soprattutto perché arrivati a un certo punto si capisce che a differenza di tutti gli altri villain che hanno magari anche un sentimento di odio nonostante tutto katakuri lo fa perché deve sul serio proteggere la propria famiglia ha un senso dell'onore e un senso tipicamente fraterno nei confronti delle sorelle e di tutti gli altri che lo circondano ebbene katakuri non è neanche paragonabile a un villain è a tutti gli effetti un anti eroe perché probabilmente subisce questo suo senso del dovere e lo si vede alla fine e qui volevo arrivare ci sono dei momenti all'interno dello scontro finale di hulk e kyle and questo face to face tra rufi e katakuri che fanno proprio sottolineare il fatto che secondo me e io appartengo a questo partito katakuri tutto sommato alla fine abbia scelto scientemente di perdere l'ultimo confronto con rufi così da non dover più ricoprire quella sorta di totem verso i quali tutti guardano oltre al fatto che rufi nei confronti di questo avversario è forse quello che verso il quale tributa onore alla fine il momento in cui rufi prende il cappello e lo poggia sulla faccia di katakuri che tutto sommato indossava quella sciarpa non solo per proteggere se stesso e i suoi familiari da sfottò e iniquità sin dalla più tenera età ma anche come se fosse fondamentalmente la sua maschera e quella sciarpa rappresentava davvero tutto il fardello che katakuri doveva avere sulle sue spalle e che andava via si dissolveva nel momento in cui non c'era più intorno nessuno e lì si poteva io ho amato quella scena che per molti è sembrata grottesca nella quale katakuri nel mezzo di un combattimento dopo aver pensato di aver sistemato rufi si rintana tra quattro mura fatte di dolciumi e finalmente può liberarsi può dare libero sfogo a se stesso mangiando in maniera vorace quelle ciambelle io ho adorato quel momento perché si vede proprio un personaggio che ha dovuto fare non solo di necessità virtù ma che sul serio è stato probabilmente schiacciato dal senso del dovere di dover proteggere sempre e comunque la propria famiglia perché se non l'avesse fatto lui non l'avrebbe fatto nessun altro e d'altronde come si può anche pensare che da questo punto di vista katakuri non sia uno dei personaggi più nobili in cui rufi e gli altri si siano mai imbattuti e non solo perché katakuri non vuole permettere ad altri di avere il privilegio di poter dire ah io l'ho ferito ti ho aiutato durante il combattimento la scena in cui lui toglie di mezzo la sua sorellina e si ferisce nello stesso modo in cui lui ha ferito rufi per il semplice motivo che il suo onore non gli avrebbe permesso di vivere con questo rimorso ma proprio il fatto che lui alla fine si dimostri anche per aver perso un uomo tutto di un pezzo fa di lui secondo me uno dei personaggi più meravigliosi delineati dall'eciroda soprattutto perché si capisce che i fratelli confidavano in questo pilastro che forse nel corso degli anni è stato fin troppo spremuto e però non gli si può fare nonostante tutto un torto a katakuri per il semplice motivo che anche lui evidentemente a un certo punto della sua vita si è reso conto che sul serio se la famiglia non la proteggeva lui non la poteva proteggere nessuno perché se hai una mamma come big mamma che in un raptus di follia è in grado anche di togliere letteralmente la vita dei propri figli ti rendi conto che c'è bisogno di qualcuno che bilanci insomma questo problema familiare chiamiamolo così io ho adorato continuo ad adorare continuo ad adorare katakuri continuo ad amare alla follia quello che forse forse aspettando il finale del combattimento con kaido insieme a quello con rob lucci do flamingo e crocodile è uno dei punti più alti dal punto di vista dei combattimenti di tutto one piece non solo per quello che si vede non solo per le mosse di rufi non solo per lo snake man ma proprio per katakuri per il suo essere integerrimo e anche per i suoi eccessi eccessi culinari e non solo questo era quello che vi volevo raccontare oggi fatemi sapere voi però che cosa ne pensate lasciandomi un commentino qui sotto su youtube e noi ci vediamo domani per un nuovo appuntamento sulle 100 cose su one piece ma dalla settimana prossima però andiamo in doppio numero nel senso che alle 14 ci sarà il video normale la sera intorno alle 20 ci sarà il video sulle 100 cose di one piece anche perché se no per il canale diventa sul serio solo one piece e ci spariamo un pochino tutti